Tre spettatori addirittura Ma voglio vederla anch'io sta live Per capire che cazzo succede Ah no, adesso registro Ecco, registro Si vede, si vede, se non si vede Tanto lo riporto su Youtube Prendo due piccioni Con una favella Forse Abbasso un pochino la musica E andiamo, allora Le prime cose da fare, vediamo un po' Allora, come vedete Vi ho detto, mi sono registrato sul punto B Che mi chiedete sempre Se uno si registra sul punto IT Se deve fare un altro account sul punto COM Sul punto D Sul punto FR, no? Io mi sono registrato sul punto B Con questo nome qua, che poi Lo vedete Questo qua, lo vedete qua Se non si vede Vabbè, tanto poi Ve lo metto in descrizione Ve lo metto ovunque Deve diventare virale Sto store, eh ragazzi E E quindi, vedete Io adesso sono su Lookup Su quell'inglese Poi se voglio Vado su quell'italiano Se voglio Vado sul punto COM americano Che tra l'altro Visto abbiamo 200 list Listing gratis 200 inserzioni gratis Siamo addirittura in due Cosa sono? Io e io Io e io siamo Le prime cose Però adesso le voglio provare a fare Un attimo Separate qua Perché non vorrei che ci sono tutti i dati Però la prima cosa da fare ovviamente Sarà Inserire Il metodo Di pagamento Che vai ci farà Perché vai Ci verserà i soldi Direttamente Sul nostro conto corrente Che quindi Possiamo mettere Liban O molto probabilmente Non lo so Io metto Liban Ma molto probabilmente Possiamo mettere anche Il numero della Carta di credito Di debito Meglio Carta di debito E E loro ci mandano i soldi Ogni due giorni Ogni sette giorni Come vogliamo noi Molto probabilmente Sarò Ci avrò i fondi bloccati Per 14 20 giorni Non lo so Poi vedremo Vedremo Appena venderemo qualcosa Se venderemo qualcosa Ragazzi Perché non è che sia scontato Allora Ok ragazzi Allora vado un attimo a vedere Vado su account Mamma mia è tutto lento Meno male che tra poco Arriva il pc nuovo Ok Adesso ve lo faccio vedere Questo posso farvelo vedere Vedete Andiamo su account Poi andiamo su Pagamenti Eh lo faccio un po' separato Perché poi non voglio Che magari ci sono tutti i miei dati E queste robe qua Infatti adesso Devo mettere la password Ok poi si fa Continua Qua è proprio passo passo Dall'inizio Eh Ah ok Le tue informazioni Di pagamento Vedete ragazzi Non sono disponibili Su siti e buy Internazionali Devo andare Sul sito us Io Voi molto probabilmente Lo dovete fare Dall'Italia Perché vi sarete Registrati Dall'Italia O vi registrerete Dall'Italia Se non siete ancora Registrati su ebay Ciao Davide CJ Black CJ Dropshipping In black Non esiti oggi A twitch Ah no Aspettate Ecco Vedete ragazzi Qua Aggiungiamo Le opzioni Di pagamento Anche il check out Metodo Vedete Il metodo di check out Qua dovremmo inserire La nostra carta di credito Adesso Risposto di qua E vado ad inserire tutto Ne ho creata una Proprio nuova Nuova Quindi neanche la so Adesso vado a vedere Di cercarla Credit card For debit card Ma non si può mettere l'Iba Non mi sembrava di aver messo l'Iban Ah me la devo far mandare Comunque da Da Com'è che Un follower Eh addirittura Sono Ciro su telegram Grazie a te Grazie per seguire Allora Allora Ehm Aggiungi pagamento Metodo Vedete qua Questo Lo posso anche far vedere Vedete Qua aggiungiamo O la carta di credito O paypal Io per fare Tutta questa nuova prova Ho fatto Eh questo Non ve lo posso far vedere Perché ci sono proprio Tutti i miei dati Se no mi è arrivato in casa Allora Allora Ragazzi Adesso andiamo Vabbè dai Non voglio perdere tempo Questo qua Poi lo faccio io con calma Perché devo andare su Non mi viene mai il nome Di quel sito Di pagamento Ok Allora Questa è la prima cosa Che dobbiamo fare Appena abbiamo aperto un account Questa è la prima cosa Subito Andare a Andare a Farci pagare Praticamente Prima cosa Bisogna farci pagare Ragazzi Poi Le altre cose Da Settare Sono Eh Non me ne ricordo Neanche più io Perché Perché l'ho fatta Tanto tempo fa Quindi le facciamo assieme Vendite Vabbè Le iscrizioni Sono quelle allo store Che noi ancora Non facciamo Aspettate Vado in italiano Che almeno Capiamo tutti Tanto uguale Andiamo in italiano Allora Andiamo su account Mamma mia Ragazzi È lentissimo Autorizzazione No Preferenze Per la pubblicità Vabbè Vedete Iscrizioni Ancora Io non farei niente Perché lo store Non lo faccio Ancora Lo faccio Poi appena Iniziamo a avere Un po' di inserzione Poi intanto Inizio al primo gennaio Inutile regalare i soldi A ebay Informazioni sulla tua attività Questi qua Li dovete mettere Perché Dovete mettere La vostra partita IVA Se l'avete Ovviamente Poi accesso e sicurezza Lasciate stare Indirizzi Tanto Sì Mettetelo Se li avete già messi All'iscrizione Richiediti i dati Chi se ne frega Feedback Chi se ne frega Adesso andiamo a fare La cosa più importante Io ovviamente Per ora Non vendo ancora niente Perché Si parte il primo gennaio Però Adesso vi faccio vedere Ma sì Andiamo in bellezza e salute Della prima fattura del corpo Bombe da bagno Sì Solo per farvi vedere La prima cosa Questa è davvero La prima cosa da fare Ragazzi Prima cosa Andate qua Le spedizioni Ragazzi Mi raccomando La prima cosa da fare Le spedizioni Le andiamo a settare Mi fanno pagare E la madonna 59 centesimi Costa adesso Poi vedete qua Vabbè Compra subito Poi vediamo ovviamente Come fare un'inserzione Perché Ovviamente Deve essere tutto Passo a passo Proprio Proprio Dovete Mamma mia Però è tutto Indifferito Vabbè Vedete Servizi Voi se fate dropshipping Mettete questa Spedizione economica Dall'estero 10 minuti Due giorni E fatela gratuita Poi adesso Vi do già Un piccolo trucchetto Un piccolo trucchetto Che mi piace Parecchio Da fare Però adesso È un po' complicato Farlo così Perché poi Dobbiamo mettere La spedizione Molto più Molto più veloce Non so se stiamo Con i tempi Ma facciamo finta Che invece Noi vogliamo fare Vogliamo stare al sicuro Mettiamo quella 11.35 Dalla Cina Poi Mettiamo quella 10.15 Sempre dalla Cina Anche se è la stessa cosa Perché tanto noi Spediremo con lo stesso metodo Però Facciamo una bella roba qua Mettiamo 2.99 3.99 4.99 Anche 0.99 1.99 Il prezzo che volete voi Questo si fa Semplicemente Che a voi non cambia niente Perché la spedizione Vi costerà uguale Se spedite dalla Cina Perché tanto spediremo Sempre con lo stesso pacchetto Sempre con lo stesso metodo Di spedizione Però molti clienti Pagheranno I 2 euro Per avere una spedizione Più veloce Perché loro ovviamente Non sanno che È la stessa roba Che tanto È la stessa identica cosa Però voi ogni volta Che uno Accetta Che uno Richiede la spedizione Più veloce A 2 euro Voi vi siete intascati 2 euro in più Che se fosse Non lo so Se vendiamo prodotti Da 10 euro Eh cavolo È un 20% in più Comunque Non è poco Su una spedizione Se vendete un prodotto Al mese Va bene Non ve ne accorgete Neanche di 1 euro 2 euro in più Però se Iniziano a essere 100 O 200 vendite Al mese Fatte con questa Spedizione costosa Iniziano a essere 200 400 500 euro in più Eh ragazzi Non sottovalutiamola Questa Tempi di imballaggio Io vi consiglio Di stare sotto I 5 giorni lavorativi Quindi io metterei Un giorno lavorativo O 2 giorni lavorativi Tanto questa spedizione Qua è lentissima Quindi va bene Però lo so già Che voi volete mettere Qua Italia Invece di Mal Vabbè Invece di Cina Scusate Volete mettere Italia Quindi Quindi Siete praticamente Costretti A mettere Vediamo un po' Una spedizione Dall'Italia La più lenta Deve essere Il piego Dei libri Sì 4-9 giorni E poi dovrete Aumentare I tempi di imballaggio Però ragazzi A volte Sono solo indicativi Questi Tempi lavorativi Eh Non fatevi ingannare A volte c'è scritto 4-9 giorni Poi andate a vedere Magari Sono 10 giorni Sono 20 giorni Sono 40 giorni Me ne sono accorto Sempre con questa qua Dalla Cina Loro mettono 15 No 11-35 giorni A volte ci mette 2 mesi Cioè Danno al cliente Che il pacco Arriva dopo 2 mesi A volte anche Dopo 2 mesi E mezzo Quindi Cosa importantissima Da fare Bisogna Giocare Proprio giocare Con le spedizioni Testatele tutte Andate su Piego dei libri Poi Vabbè Io adesso Non lo metto in vendita Lo metto in vendita Andate Sull'inserzione Poi lo vedremo Bene bene Quando farò Anche io Le mie prime inserzioni Andiamo Sull'inserzione E vediamo La tempistica Per ogni paese E questa è la prima cosa Poi La spedizione internazionale Tanto se fate dropshipping O se come me Spediamo in tutto il mondo E' una cosa Importantissima Da fare Anche questa Eh Perché non ci sono Quelle che c'ho io Nel Non ci sono Quelle che c'ho io Nel mio account principale Forse perché non ci sono In Italia E poi vediamo Più avanti Anche questo Perché ci dovrebbe Essere un'opzione Qua sotto Per fare proprio Paese Per paese Nazione Per nazione La spedizione Che è molto importante Perché qua vedete Scegli un luogo Personalizzato Ok Ma l'Asia L'Asia è enorme Spedire in Giappone Può essere diverso Che spedire in Thailandia O spedire Non lo so Nelle Filippine O anche Australia Può essere diverso L'Australia Dalla Nuova Zelanda Europa Vedete C'è poca roba Spedire in Norvegia Può essere diverso Che spedire Nei Paesi Bassi Anche qua Stati Uniti Canada Spedire in Messico È completamente diverso Che spedire in America Anche se America Comprende tutto Comprende Sud America Centro America Nord America Credo Questa è davvero Essenziale Ragazzi Noi facciamo finta Che stiamo facendo Del dropshipping Adesso Qua metteremo Spedizione internazionale Economica O quella Dalla Cina Sempre Economica Dalla Cina E anche qua Spedizione economica Dalla Cina Zero euro Mi raccomando Ragazzi Andate Prima di tutto Lo so È palloso Sta roba Ma voi vi prendete Un foglio di lavoro Excel Un Un Not Pad Lì Prendete quello che volete Word Quello che volete Andate dal fornitore Cinese Che può essere CJ Dropshipping O Aliexpress E andate a vedere Nazione per nazione Quanto vi costa E mettete solo Le spedizioni Dove non avete Problemi di spedizione Che sono Abbastanza veloci E non ci sono Tanti problemi Quindi lasciate perdere Paesi Tipo Guatemala Anche Messico Brasile Argentina Lasciatela perdere Sud America Centro America È davvero Ragazzi È davvero un casino Fidatevi di uno Che ha spedito Praticamente In tutto il mondo E quindi Vedete le spedizioni Magari In Italia Magari è diverso Il prezzo Dalla Germania Sì qua non c'è l'Italia Perché abbiamo messo sopra In Germania Il prezzo è diverso Magari dalla Francia Dalla Spagna Quindi Guardate bene Ragazzi È un consiglio Voi il prezzo Fatelo Incluso la spedizione Esempio Prodotto 10 euro Spedizione 5 euro Voi calcolate Che il prodotto Vi costa 15 Dalla Dall'Italia Dalla spedizione Italiana Poi Se noi spediamo In Germania E invece di costarci 15 euro Ci costa 18 euro Il prodotto Voi andate in Germania E mettete che la spedizione Costa 3 euro Costa 10 euro Spedire in Canada Esempio Ok Allora In Canada Mettiamo 5 euro in più Perché invece Il prodotto Di costarci 15 Ci costerà 20 Quindi 5 euro in più Ci siamo capiti Questo qua È essenziale Ragazzi Questo richiede un po' di tempo Però va fatto Perché Moltissimi Lo so Quasi tutti Appena aprite Un nuovo account La prima cosa che fate Andare a fare inserzioni Ovvio Fatte a caso E così Lo so Perché Ci siamo passati tutti Ragazzi E anche qua La stessa cosa Che vi ho detto Prima per l'Italia Offre un altro servizio Mettiamo sempre Facciamo la finta Germania Abbiamo messo Spedizione economica Qua mettiamo La spedizione standard Dov'è? Invece Di 5 euro Mettiamo 8 euro Deve essere proprio Un clickbait Ragazzi Deve proprio Essere un'esca Per attirare il cliente A dire Sì per 3 euro in più Io compro quella Cioè magari Ci mette 20 giorni In meno Magari è una Super protetta Magari c'è L'assicurazione Magari è una Sì magari è una Spedizione assicurata Invece no ragazzi È la stessa Identica cosa Però per 3 euro Uno dice Sì io la prendo Capita anche a voi Ragazzi Lo so Quando fate un acquisto Magari per 2-3 euro Dite Eh cavolo Questa è un'arma potente Ragazzi Ok Dai Per oggi Quanto Quanto sono stato In streaming Dai per oggi Direi che va bene Dai abbiamo fatto solo Un po' di Per rompere La freddura Come si dice Dai per rompere un po' L'imbarazzo Della prima live Della mia vita Quindi adesso Vengo un attimo In chat A vedere se avete Scritto qualcosa E vi do un salutino E vi do un salutino La buonanotte Ma allora Dov'è Twitch Connessione della chat Connessione della chat E che altro dire Basta Ciao 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 a tutti Ciao a tutti ragazzi Buonanotte Ciao a tutti 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 Ciao a tutti